Buonasera Buonasera qui dello stand di Io gioco presso il trentesimo anniversario di Lucca Games e John Decker Mess di Lucca Comics & Games Cosa stiamo per fare Mario? A parte il fatto che tutte le volte che mi dici che è il trentennale di Lucca Comics & Games Tanti bacioni, bellissimo, favoloso, ma sei anche il 35 anni TGM con il numero 400 che è uscito proprio quest'anno Però adesso stiamo parlando di Street Fighter Street Fighter 6 Primo torneo di Street Fighter 6 Primo torneo di Street Fighter 6 Perché è un gioco che è uscito qualche mese fa Che è avuto un modo di disanità intorno al numero 400 A noi è piaciuto tantissimo Ed è il suo complesso diciamo così Quindi anche la sua capacità di andare dal più scafato di giocatori Al più imberbe che sta, che vuole imparare insomma E che addirittura può costruirsi personaggi con qualsiasi tecnica Presa da questo o quell'altro lottatore Una caratteristica nuova insieme con Open World Quello particolare Open World che c'è nel single player del gioco Però poi sappiamo che il cuore vero Il cuore vero pulsa nell'incontro Assolutamente Uno contro quello che stiamo intendo a fare Ecco il capo del torneo Abbiamo detto che ci sono qualificati 5 giocatori in questa fase finale È un torneo a doppia eliminazione Abbiamo già avuto modo di vedere le prime due qualificazioni ieri pomeriggio Abbiamo avuto modo di vedere le prime due qualificazioni ieri pomeriggio Oggi andiamo avanti sia col tabellino dei winner ma anche col tabellino dei loser In attesa di quelle che sono poi le semifinali e le finali che vedremo invece domani Dobbiamo anche ricordare qualcosa di molto particolare Che non è una televenta questa Ma dobbiamo ringraziare Western Digital Che ci sta offrendo questi favolosi premi per video giocatori Queste sono schede di memoria per PC Abbiamo degli SSD E diciamolo che l'occhio vuole la sua parte Sono anche di un design, di una figata pazzesca Sono anche proprio fighi da vedere Questo qua tra l'altro brandizzato Xbox Per i possessori appunto di Xbox Hanno un po' un aspetto high tech militare Ma all'altra parte voglio dire È il tema di tanti giochi che Woody Black ha avuto con sé Al di là di Street Fighter 6 che non c'entra nulla Però comunque Sono ottimi prodotti di alta gamma per giocatori sia di PC Ma di hard disk anche per le console Perché con quello che occupano i videogiochi al giorno d'oggi Se non si ha un supporto di memoria esterna Io la Play 4 senza un hard disk a fianco Quale è più possibile? Ho preso proprio Western Digital fra l'altro Per la mia Play 4 E senza di quello non avrei modo per giocare ai videogame Perché non c'è fisicamente più spazio Purtroppo sono un accumulatore seriale Non sono un collezionista Dico sempre Se non hai una cosa del genere Arriva il momento in cui devi disinstallare qualcosa che non vorresti farlo Insomma ci si trova davanti a momenti veramente terrificanti per un giocatore medio Quindi insomma meglio avere un supporto di memoria Per poter insomma avere più giochi possibili Ok quindi 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 avanti Aviamo i giocatori che qua mi stanno scappettando su Sulla chat di Whatsapp che abbiamo creato appositamente per questa seconda giornata Abbiamo Marcus Fly contro Elveganito Elveganito è un giocatore che ha avuto modo di conoscere ieri E che il nostro buon regista ha avuto modo di conoscere anche dal vivo L'anno scorso per la consegna del premio Ho chiesto se quest'anno anche sarà in grado di garantirci la visita del nostro regista A sorpresa a casa sua E qualora debba riuscire a portarli E a guardarsi nuovamente un premio Vi ricordo che comunque per tutti i giocatori che si sono qualificati in questa fase finale Rizzeranno questo premio di fedeltà Che è la rivista Lavoramente la nuova rivista di TGM Vedo che sono già pronti Stanno già partiti Allora abbiamo Elveganito che utilizza il suo solito Ken Mentre Marcus Fly prende Ryu E... Parmi sotto con questa serie di calci Le porta verso le corde E quindi è un giugno Ti ha visto gli stati personali E è in grado E proprio i due amici uno contro l'altro E subito fra l'altro Mercos Blambio ha visto che ha rubato questa tutta quanta la vita E non c'è stata storia in questo round E da parte di Marcus che ricorda anche un tuo grande fan E ci tiene prima di vincere i premi di queste viste E infatti lo saluto del grandissimo piacere E non so E' stata un rush Un rush Però vedo che Elveganito non ci sta Ma tutto subito le corde Però con questi paris counters da parte di... Ehm... Da parte di... Marcus Fly riesce un attimino ad allontanarsi dalle corde di questo ring virtuale Questa serie di aduca che gli permette di cambiare la situazione Ma il potere a stare sulla difensiva è Elveganito Ma non ci sta perché adesso questo è il momento Marcus Fly è entrato Parte con questa serie di Tatsumaki E conclude con questa dubbio Questa sua coppia in modo tale da portarsi avanti un po' di vita Ma Elveganito non ha fatto un paese all'estremo Perché comunque... Ehm... Se non si guardiamo dalle barre Siamo molto avanti Ehm... Marcus Fly è stato un po' di difficoltà Con la partita La stun Ehm... Ehm... Non c'è stata la possibilità di... Della chance per Elveganito E intanto Marcus Fly si porta sul 2 a 1 Eh... Sì, parlo Sul 1 a 0 Chiedevo alla regia di aggiornare un attimo il tabellone Abbiamo Marcus 1 e Elveganito 0 Ehm... Che con questo 2 a 1 inizia appunto Si guarda il primo punto Quindi in questa fase del torneo bastano due punti Per accedere alla partita successiva Mi confondo anch'io sempre fra match, round e queste cose qua Ehm... Elveganito non ci sta Riesce subito a rubare un terzo della linea della barra dell'energia a Ehm... Marcus ma ha già consumato gran parte della scuola anzi E però adesso non si è ripreso Ehm... Parte con questa sedi calcetti Con questa fase riesce a buttare Ehm... Marcus Fly verso l'angolo Che questo qua di scanta riesce ad uscire fuori Da questa sedi combo che sta proprio da parte di Elveganito Ehm... Ottimo Lentiel da parte di Elveganito che lontano a Marcus Marcus di meno questa sedia Duken Ehm... Sembra quasi che questi sono ancora studiati Ho già disputato tre round ma i giocatori stanno ancora studiando in questa fase Ehm... Della partita Adesso vediamo appunto Ehm... Ehm... I giocatori sono abbastanza distanti Parti subito con questa presa Marcus continua a cercare di tele lontano Ibon... Che è di Elveganito Ehm... Ehm... Aduken è andata un po' vuoto perché viene parata da parte di Elveganito Ma vedo Marcus abbastanza in forma e vantaggio di questo round Vediamo come entra a concludersi Ehm... Ehm... Sicuramente... Ehm... Sì... Però... Questo non si sa che c'è la scena Dall'occhio che lo serve Ma ascolta Intanto c'è uno dallo strano di Gryde Qui... Si... Ehm... Si... Ibon... Ehm... No... Oppure... A me sembra il miglior piano di Elveganito Assolutamente perché c'è un elemento continuo che vi punta ad andare avanti Però intanto... Qui siamo per un possibile match point per Marcus che rischia di andare avanti nel Dall'oe O oppure di Elveganito per cercare di fare esaltazione Però intanto parte la critica da parte di Marcus Mamma mia quanto sono belle queste animazioni Ehm... Ehm... Questo sicuramente da campo Mamma Kakoumon ha fatto un ottimo lavoro di miglioramento rispetto al Ciccano Molto più cartonesque e comunque riesce veramente a portarsi in estrema vantaggio ed è veramente un'unghia della vittoria di questo però si porta su da zero il buon Marcus e va a guadagnarsi l'accesso alla partita successiva bravo Marcus un pochino per te lo faccio soltiamo anche i ragazzi che ci stanno guardando in diretta vedo in questo momento che ci sono comunque anche la chat se volete commentarci se volete dirci quanto siamo belli potete farlo mentre nella prossima partita scusate se guardo il cellulare però devo guardare il bracket in contemporanea abbiamo avuto Max Stray contro il Piganito e invece adesso passiamo al tabellone loser perché vi ricordo che per essere minimizzati nel torneo bisogna perdere almeno due partite tant'è vero che anche chi vince tutte e quante partite e dovesse rincontrarsi quel vincitore dei perdenti è più facile a vedere il tabellone che a capirlo che a spiegarlo anche e chi ha vinto tutto il torneo ha il diritto comunque di perdere ancora una partita prima di dire sono stato sconfitto quindi abbiamo Jamba Wang contro Fulham Run nel prossimo match e vedo se i giocatori sono pronti mi dicono di sì sta aspettando lo che è da parte della regia vediamo un po' si appaiono si appare tutto l'ambardan la regia mi conferma se i giocatori ci sono in lounge dovrebbe essere roba di pochi stan ricordiamo sempre quella regia di premere vedi i match in diretta perché sennò rischiamo di perderci parte del discorso l'attesa di inizio della scontra eccolo qua non dico ancora nulla ma finora la diretta sta andando molto bene cioè non si dovrebbe dirlo silenzio i match stanno andando per il verso giusto allora nulla di nuovo Fulham Run con il suo Ken e Jamba Wang che utilizza Gai che utilizzava già da 3F5 subito con questa serie di persone di bond a parte di Jamba Wang che vuole far capire pochi comanda però se continuo a dire che Fulham Run è un giocatore che rispetto al capitolo 5 è migliorato parecchio per me ripeto può essere un po' l'effetto Bradbury è un po' l'effetto Bradbury rispetto di questo torneo sicuramente quello con capacità tecnica un po' inferiore rispetto agli altri però è uno che continua a dire vende sempre Carabelle un po' come l'Ital Rec cioè un po' insieme a Versailles vuoi essere un'Andalanda non ti fa tornare a casa con le ossa tutte le parti in te piuttosto scorso che una partita quindi io semplice un po' per lui devo essere sincero non è una partita di ragazzi quindi io mi sono più dolente di ragazzi purtroppo ancora anche la Francia ci siamo��ati a sognare ma sono così ma è tanto Qua Wang è un passo veramente da un'ugna graficamente per portarsi a casa questo primo round si porta a casa questo primero è solo l'utilizzo di questo anti-Health però continuo a dire che secondo me ne vedremo di belle perché Wang è uno che quando è troppo sicuro di sé di me, della Madonna, non me ne voglia è un'altra che tende un po' anche a volte a sottovalutare da bersaglio perché dalle notti tecniche lui è straordinario però a volte tende a perdersi un bicchiere d'acqua come si suol dire però in Italia se fidiamo gli giocatori internazionali per me è uno dei più forti che abbiamo allora, a parte con questa critical manda praticamente full run alle stelle lo vedo ancora confuso un po' il nostro amico che sta utilizzando Ken ma non ci sta, a parte subito questi controattacchi sono trovi senza energia in attesa di ricevere vedi qua la barra che si ricarica se quella viene totalmente rollata si va in stanza e niente, in Italia di nuovo si porta, Jabba Wang si porta sull'1-0 chiediamo pure alla regia di aggiornare la nostra grafica però ti ripeto, per me non è finita abbiamo cambiato scenario, siamo passati alla Londra vittoriana con questo fantastico rottetempo di Harry Potter e Jabba Wang, con solo una quanta energia a parte con questa serie di combo ma anche il bomb con la rana finita l'energia portiamo questa serie di ultimo, c'era il terreno dell'avversario ma con questi anti-air spedisce il suo avversario nell'angolo Tatsumaki per non cercare di uscirne Pugno Medio per cercare di riambandare tutto quanto alle corde vediamo se la partita di Starm secondo me lo chiude con questa serie di combo no, last chance, last chance one chance for life abbiamo ancora l'1% di vittoria vediamo, vediamo attenzione, attenzione questa cosa, no, questa cosa è la regia prego di cliparla perché merita veramente di essere in lista questa qua è veramente grande scuola quando dico che allora, Fularan ha perso ma come ha perso questo round parliamoci chiaro un momento da paura non ha perso Jamba One secondo me è divenuto qualche cappello bianco nel terreno eeeh attenzione che continuiamo avanti con una serie di Pugni Medi ad ammettantezza serie di Aduken da parte di Fularan non ha un punch per cercare di liberarsi punish counter da parte di Fularan per cercare di andare avanti ha mandato il suo versadio alle corde con questa serie di Aduken eeeh ma non riesce ad uscire fuori ha proprio sfrutturato alcune ma non sta tutto ancora fermo là attenzione, attenzione perché io vedo un Fularan veramente ripresa eeeh sta guardando veramente tutto per tutto ha bloccato per tanto perché se non avessi avrebbe chiuso il match vediamo cosa succede ha tirato da parte di nuovo di Jamba One ma Fularan si porta a casa a questo round eeeh vediamo chi vincerà perché potrebbe essere o il match point per Jamba One o il come si dice la possibilità di pareggio da parte di Fularan e fino a non c'è stato nessun match che sia finito sul round quindi siamo stati match secchi andiamo pure avanti con la nostra retrovaca perché siamo al trentesimo universale di Luka Games e questi giocatori si stanno sfidando online ovviamente eeeh però sta una possibilità di andare avanti eeeh fuori raro lo vedo molto in forma anche se ha perso gran parte della vita però tutto lo sta abbandonando completamente tutto il nuovo gioco buon e tutto buon e tutto eh come? buon e tutto si assolutamente assolutamente attenzione che qui c'è una gelata adatta a vuoto da parte di Fularan sono attenzione Dragon Punch come lo è utilizzato come anti-air vuole cercare di chiudere potreste da casa adesso vedo veramente Fularan in vantaggio un Jamba One che rischia di perdersi vediamo che succede perché secondo me si va al terzo match Sonic Boom è andato a vuoto perché viene parato Fularan scappa per cercare di recuperare l'energia adesso ha di nuovo l'energia per cercare di affrontare le sue persone al meglio attenzione Mugneto che viene parato con la presa si porta a casa questo primo punto del torneo e cerca di far vedere che Fularan c'è ancora c'è ancora un bellissimo match 1 a 1 siamo 1 a 1 come in camera inizia di Fularan 1 a 1 abbiamo cambiato di nuovo stage siamo finiti in Mongolia dove è qua in palesia no tibet cosa può essere qua se non ti amare siamo subito ah io sicuro subito c'è stata ristretta ma è riuscito fuori quando è veramente partito in quarta con questo round adesso avrà preso un terzo di vita ma guardate quanta vita ha tolto al buon Fularan che non c'è ancora diciamo pure al buon Loris che non deve cercare di perdersi se vuoi giocare sui errori a questo punto che ha fatto perché deve cercare di andare avanti e non perdersi se vuole portare avanti la sua eh sottornetta perché ricordiamo che da questo momento avrà questi due di chi perde eliminando dal terreno e nonostante un'unghia di vita con quest'ultimo strike boom Wang si porta a casa eh questo unghietta una cacola si porta a casa questo round subito Wang vuole far vedere il comando vuole far capire che quello che è successo prima nello scorso match è stato un caso e vuole cercare di chiudere in fretta e si sta parlando una serie di calci e manda sulle corde con Pularan con Ken parte questa serie di combo da parte di Jabba Wang che non ci sta non vuole far vedere gli rischiati di perdere parte con la critica attenzione Mario che rimanda il fondo alle stelle e parecce i conti parecce i conti il cinematico non so il cuore di Vadey porta in combat però quella è cinematografia allo stato puro ninja quello è anche una scena questionista comunque ridendo e schertando Jabba Wang si porta sul 2-1 e prosegue sotto il nome ringrazio ancora veramente Fularan che riceverà comunque questo premio fedeltà di abbonamento alla rivista Cartacea più longeva d'Europa come premio per questo più longeva del mondo del mondo e quindi appunto restiamo avanti con il nostro torneo ringraziamo ancora il buon Loris per aver partecipato e per essersi anche qualificati in questa top 5 e nella scaletta del nostro bracket dovremmo avere praticamente la finale del torneo winner sostanzialmente cioè dalla prossima partita in poi che vedremo nel corso dell'ultima giornata chi viene eliminato verrà eliminato dal torneo quindi chi perde in questo momento andrà poi a scontrarsi contro Elveganito perdono contro il vincitore di Elveganito contro Wang perché adesso bisogna proseguire con questa scaletta che parte dal che parte dal basso verso l'alto appunto il capino di Wang il loser è ben iniziato per cercare di arrivare in finale se vuole arrivarsi dovrà battere prima Elveganito e poi il perdente di questa partita che potrebbe essere anche sotto l'alogo che era stato quello proprio che l'ha mandato giù quindi vedo se i giocatori ci sono la regia mi dice mi chiede se sono pronti i giocatori qua allora ci sono anche la regia mi dice che dovremmo esserci ricordo sempre di premere il tasto vedi il match in diretta che non vorremmo perderci manco un frame qua c'è la chat ragazzi commentate nella chat diteci parlateci siamo qui noi siamo qui per voi per rispondervi ad ogni dubbio esistenziale e ringraziamo ancora Western Digital per la presenza dopo dopo quando ci arriviamo a conclusione ti ricordiamo anche esatto torniamo perché vi sembra giusto allora i due finalisti dell'anno scorso tra l'anno scorso e con le Starfighter 5 poi sotto l'anno scorso e e e e e e e e io l'ho già perso perché era con full run e e però che sotto l'anno scorso un amico che non conosce mai ma tu dai ma veramente ma attenzione attenzione perché qua con questo calcetto basso sotto l'anno scorso proprio non si è visto in questo adesso vuole e vuole far vedere un po' più mazza attenzione per questo calcetto basso sotto parte d'attacco il buon Ryu di Marcus serie di Fireball da parte di sotto ma che vanno a vuoto però nel frattempo Ryu si sta caricando manco fosse un Super Saiyan equilibrati molti equilibrati anche se il primo round è finito veramente e immediatamente non me l'aspettavo da parte di sotto Roseli abbiamo visto tipo attacco contro Beganito al primo round poi si è molto ripetito e sai cosa succederà adesso subito scende a Duke per cercare di aderterarsi buon Rolantier anche arricchetti con la passo molto lungo sempre ma vediamo questo ultimo colpo attenzione perché questa Duke era il doppio colpo e di una progetta di vita il buon Marcus si porta a casa questo primo beh ci si mette sull'1-0 vediamo pure la regia che Marco Sly si mette sull'1-0 scusate ma il bello della direzza anche questo oggi è stato un diluvione Mario che Marco Sly ha preso 4-5T di più di quello che hanno preso già a causa del temporale che c'è stato una quattore che a metà bastava c'è stato un momento veramente pesante colpo il portone di qua chiuso al Carducci dentro il padiglione che compie trent'anni compie trent'anni insomma questo format di Luca che ha saputo dettare a comunque leggere il documento si sono trent'anni trent'anni ma sbagliati sono molto sbagliati sono giornate molto sbagliati attenzione perché Marcus di nuovo non c'è quella testa quest'oggi sarà innamorato e in questo momento buongiore e Marcus parte subito all'attacco vuole praticamente farci spavere tempo e avere questa diretta e così muovono capogliarsi e mandare da casa nonostante tutto noi siamo qui presenti allo stedio gioco dalle 10 alle 19 ogni giorno qui a Luca Comics e Games dove potete trovare il nostro regista il nostro Mario le nostre riviste le riviste dei games machine sempre disponibili per voi c'è anche la guida tra Luca e Luca e Luca è il fatto della nostra insomma di vista generale dico attenzione perché qua secondo me fuori zero vuoto e parte la critica di Luke di questa parte di sotto Luca che vuole far vedere ancora chi comanda e non chiude il match ma siamo veramente all'ultima scelta per entrambi e sotto si porta sotto portandosi al questo match al terzo round che potrebbe essere appunto come prima o il round di Barejo per Sofa Longo o il match point per Marcus che lo manderebbe nella... vediamo un po' e vedremo appunto poi sotto logo il veganito e anche il bon tra i protagonisti di di domani tu lo sai chi sto tenendo adesso eh lo sono avvenuto di dubbino ce l'avevo perso perché il primo ho detto io e ha perso subito e poi ho detto fa rete siamo quasi alla fine per questo match ma vediamo se sotto no niente con questo calcetto basso Marcus Kai si porta su 2-0 prendiamo pure la nostra regia di aggiornare il punteggio anche se è abbastanza negativo e Marcus Kai si porta nella grand final quindi chi andrà a sfidare il buon Marcus Kai fra Sofa Longo veganito o Jamma Wang che adesso sarà tutta quanta una risalita per tutti questi giocatori che hanno più scelte per poter perdere e sono costretti ad eliminare se stessi per raggiungere il nuovo Marcus nella grand final detto ciò l'ultimo appuntamento se la regia me lo conferma ci avremo sempre domani intorno ai 17 alla 17.30 qui sul canale Twitch The Gaze Machine dove troverete troverete altra roba stavamo parlando prima delle cose interessanti in termini di retro gaming da fare con te assolutamente avremo anche nei prossimi giorni un'ora da dedicare ad un panel che abbiamo già avuto modo di presentare assieme all'associazione di Toccipit assolutamente domani domani sarà proprio il momento di questa quarta domani ci metteremo qua con un pdf naturalmente per far vedere meglio gli articoli e naturalmente continueremo a odorare volentieri la carta però domani sarà una giornata prima di prima di andare nel torneo sarà una giornata di... quanti giorni abbiamo ancora che io sto perdendo il conto non so sto perdendo il conto io ormai di dirette perché dovremmo ormai arriveremo anche con Paolone a presentare il nuovo zap però a questo punto io devo fare il conto dei giorni perché insomma detto ciò ricordiamo ancora il nostro sponsor per questo torneo che è Western Digital se vogliamo far vedere l'ultima volta le periferiche che siamo andati per i vincitori del torneo che sono queste schede di memoria fantastiche di un terabyte vedo poi hard disk anche questo qua specifico per Xbox e diversi SSD posizioni per i giocatori allora cerchiamo di fare una programmazione per domani ok? perché secondo me va a farlo assolutamente io direi che domani partiamo con la presentazione di TGM arriviamo fino al torneo con la presentazione del nuovo TGM assolutamente e poi dopo se vuoi chiuso il torneo ci facciamo un po' di retro gaming assolutamente con storie di vecchi diciamo qualcosa possiamo dire di consorre portati sostanzialmente va bene ovviamente insomma metteremo a posto tutto il nostro materiale poi sabato invece andremo di presentazione di Zap cercherò di mettermi d'accordo nel modo migliore possibile con il nostro paolone vediamo se sarà una diretta la mattina o al pomeriggio però insomma sarà un un appuntamento extra per la nostra infaticabile regia che salutiamo e che ringraziamo per darci la mano e supporto in qualsiasi contesto e noi ci vediamo domani assolutamente regia possiamo salutarci ok grazie ancora a tutti ragazzi a domani a domani dalle tre e mezza quattro si parte con con il nuovo TGM io partirei anche dalle tre e mezza perché ce n'è da dire ok ciao ragazzi ciao buona serata ciao ciao